Benvenuti su MyFootballJersey. Vediamo insieme questa che ha la prima maglia dell'Inter, però in un'edizione speciale dedicata ai Transformers. Questa è un'edizione fun. Grazie a tutti. La maglia è molto bella, ovviamente è la prima dell'Inter, cambia soltanto lo sponsor, la maglia dell'Inter la conosciamo. Questa è fatta molto bene. Vi ricordo che l'edizione fan è quella un po' meno tecnica che nelle grandi squadre è un po' quella dedicata ai tifosi. Se volete maggiori dettagli trovate tutti i riferimenti qua sotto nella descrizione del video. Andate a vedere perché potete, con un link che trovate sotto, ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo che vedevate prima diventa ancora più basso. Ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Prima però non mi stancherò mai di dirlo, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Ciao! 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 Ciao!